E' stata una serata di moda ma anche di divertimento quella andata in scena ieri sera a Borgo Marina Imperia, tutto esaurito per la terza edizione di Masquerade promossa dall'Italian Style dei fratelli Oleglio. Alla sfilata hanno preso parte otto bellissime ragazze in un'atmosfera glamour nell'ambito delle cene in Borgo, che tanto successo stanno ottenendo dallo scorso mese di luglio. Masquerade che inizialmente era stata ospitata al Greenwich Bar da due anni a questa parte si è spostata all'Italian Style ed è stata promossa in collaborazione con Intimissimi. Tra una passarella e l'altra il pubblico ha assistito anche allo spettacolo del circo di strada che ha coinvolto le principali vie e piazze del Borgo per circa due ore per la felicità delle famiglie e dei turisti. Si tratta di artisti della compagnia Teatro Scalzo di Genova. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!